Una buona giornata a tutti i nostri telespettatori. Ritorna l'informazione di TRMH24. Ieri a Capulso perde la vita un ragazzo di 29 anni dopo un accoltellamento. Tutto sarebbe iniziato per un litigio a Mola di Bari, poi l'inseguimento fino alla città dove appunto è morta la persona. Un uomo di 29 anni è stato accoltellato a Capulso nel Barese e ha perso la vita. Stando alle prime informazioni raccolte ci sarebbero altre tre persone ferite. Una vita iniziata a Mola di Bari è sfociata nel ferimento di un ragazzo trasportato al pronto soccorso del divenere. I suoi compagni avrebbero poi inseguito in auto gli aggressori fino a Capulso in via Casamassima dove c'è stato un secondo accoltellamento, questa volta fatale. Sul posto i carabinieri della compagnia di Trigiano e gli agenti della scientifica coordinati dal pubblico ministero Michele Ruggero. La vittima, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe originaria proprio di Mola di Bari. Al momento sono in corso tutte le attività finalizzate alla ricostruzione dell'accaduto, non c'è ancora un movente. E anche all'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, nonché alla verifica delle prime testimonianze già raccolte dagli inquirenti. Torneremo ad aggiornarvi sul caso nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Noi andiamo avanti, chiedono la revoca delle autorizzazioni, le associazioni di cittadini preoccupati per la prevista realizzazione di un impianto per la lavorazione dei rifiuti nella zona industriale Bari-Modugno. E' qui nella zona industriale tra Bari e Modugno che è prevista la realizzazione di un impianto di ossicombustione da parte della NUCO, un impianto che sta facendo molto discutere sia la politica sia i cittadini. Alla luce degli ultimi sviluppi, molte sono le preoccupazioni da parte dei cittadini. Assolutamente, pure perché i cittadini quelli che invocano è il principio di precauzione, cioè il principio che determina il nesso di causalità tra l'insorgenza delle patologie che riteniamo essere in incremento esponenziale, invece sotto l'aspetto di quelle che sono le patologie tumorali, e le fonti emissive che le determinano. Cioè già questo è un territorio altamente stressato sotto il profilo ambientale, in particolar modo sulla qualità dell'aria, quello che è l'incidenza sulla qualità dell'aria, e quindi pertanto alla luce di questi non abbiamo alcun dato quando il cittadino, nel rispetto dei principi della pubblica amministrazione, che è uno dei principi a cui si ispira la trasparenza, dovrebbe rendere doti tutti i cittadini sul profilo dello stato di salute al quale noi siamo assegettati. Cosa chiedete? Noi chiediamo ovviamente il ritiro delle autorizzazioni. Il prossimo passo da parte vostra quale sarà? Quello che per il giorno 24 quasi certamente, voglio dire, abbiamo indetto un'assemblea ovviamente regionale, perché coinvolgiamo un po' tutti quelli cittadini che si battono per questi sacrosanti diritti, per poter fare il punto della situazione a cui parteciperanno in maniera gradita anche i sindaci che si sono apposti fermamente, su cui siamo certi interverrà anche il sindaco di Bari, De Caro, reduce peraltro insieme agli altri sindaci dell'Aro da una conferenza di servizi che è stata indetta per il giorno 23 per il risieme dell'autorizzazione integrata ambientale. Chiediamo al sindaco De Caro, di concerto con il prefetto di Bari, di convocare immediatamente un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ed è Polignano Ammari, secondo Booking, la città più accogliente del mondo. Ieri negli spazi della Fondazione Pino Pascali la consegna del premio. Polignano oggi rappresenta l'intera Puglia, è la capitale dell'accoglienza pugliese, è la capitale di un modo di essere dei pugliesi. Per il 2023 Polignano Ammari è la località più accogliente al mondo secondo Booking.com. La piattaforma online di ospitalità ha premiato il comune pugliese consegnando per la prima volta un riconoscimento fisico nel corso di una cerimonia che si è svolta alla Fondazione Pino Pascali. Polignano Ammari è l'unica città italiana tra le prime dieci della classifica. L'importanza di questo premio è proprio dovuta al fatto che Polignano, all'interno di tutte le review che globalmente sono state date su Booking.com dai nostri viaggiatori, è stata eletta come città più accogliente del mondo. Vogliamo che chi arriva in Puglia abbia un'accoglienza totale fatta di servizi sempre più alti come standard qualitativi e soprattutto orientati all'autenticità dei nostri territori. Polignano riesce a restituire questa dimensione. Il riconoscimento arriva in seguito a un grande lavoro di promozione fatto sia dal comune che dalla regione tutta ma è un motivo di sprono per iniziare a programmare attività che attirino turisti tra 165 giorni all'anno. Guai a pensare che sia un punto di arrivo, è un riconoscimento e oggi gioiamo per questa vittoria, per questo premio però ne ho parlato già con tutte le associazioni di categoria turistiche del territorio è il nostro slancio, il punto di partenza perché dobbiamo rendere ancora più autentico nel territorio il turismo e lo facciamo, lo possiamo fare attraverso alcuni strumenti. Dobbiamo intercettare una parte di turisti che prediligono per esempio venire in Puglia o comunque sul nostro territorio anche nei paesi non prettamente estivi. Questo ci permetterà di aumentare il potenziale dei clienti. Biol 2023. Ieri sono stati svelati i tre oli vincitori di questa edizione del concorso internazionale dedicato proprio all'olio e nella top 10 ci sono anche tre aziende pugliesi. Oltre 300 aziende in gara con circa 400 oli provenienti da tutto il mondo. Sono questi numeri che parlano dell'edizione 2023, la ventottesima di Biol, il concorso internazionale che premia ogni anno gli oli migliori. Nella top 10 2023 anche tre aziende pugliesi alle quali è stato assegnato il premio territoriale Biol Puglia. Un concorso che continua a crescere nelle anni a dimostrazione il costante numero di aziende che decide di partecipare. Il premio Biol è oramai la manifestazione più prestigiosa che si realizza in Puglia, peraltro più prestigiosa del settore dell'olivicoltura biologica e dell'olivicoltura in generale. Un evento di grande prestigio internazionale che abbiamo l'onore e il piacere di realizzare qui nella nostra regione. Gli oli pugliesi in questo contesto come si posizionano? Gli oli pugliesi si posizionano sempre nella fascia alta della graduatoria, supportati da queste magnifiche varietà locali che abbiamo. Agli assaggi una giuria composta da 29 persone provenienti da tutto il mondo e guidati da due capi panel. Abbiamo iniziato gli assaggi fine novembre, ci abbiamo messo tre mesi utilizzando ogni giornata, ogni pomeriggio libero per dare la giusta importanza, il giusto peso e il giusto riconoscimento ad ogni campione. I campioni dubbi li abbiamo riassaggiati per essere certi di portare poi in finale un numero limitato, ristretto di campioni di grandissima qualità e semplificare il lavoro alla giuria internazionale. Un olio buono si riconosce dal gusto e dall'olfatto, due sensi fondamentali. L'assaggio dell'olio avviene principalmente per via olfattiva e in minima parte per via gustativa. Annuncio da parte di Acquedotto Pugliese, sorgerà Taranto il più grande dissalatore a uso civile d'Italia. Un impianto ultra tecnologico che avrà una potenzialità di oltre 55 mila metri cubi al giorno di acqua potabile pari al fabbisogno idrico giornaliero di 385 mila persone. Il Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Pugliese ha approvato la gara per circa 100 milioni di euro a valere in parte sui fondi della PNRR che doterà l'Italia del più grande dissalatore a osmosi inversa, il primo impianto continentale a uso civile del paese. Il dissalatore sorgerà in agro di Taranto sulle sorgenti salmastre del fiume Tara e sarà un'opera strategica e integrata con lo schema di adduzione a servizio della Puglia. Questa grande opera italiana è frutto della visione strategica della regione Puglia e delle capacità industriali di Acquedotto Pugliese, le parole del governatore Michele Emiliano. L'entrata in esercizio delle opere è prevista per la metà del 2026. Noi prenderemo l'acqua del Tara e la ripuliremo, toglieremo il sale e poi aggiungeremo i minerali necessari per farne un'acqua buona, pura, da distribuire come acqua potabile nell'area tarantina. È un fatto importante perché l'impianto è un impianto grosso, è un impianto da 100 milioni di investimento che produrrà a target, cioè su quello che è il valore nominale, mille litri di acqua al secondo. L'avere un impianto di questo tipo consente anche di avere un'acqua di grande qualità, quindi come se fosse un'acqua di fonte, se non addirittura meglio. È un'operazione di altissima rilevanza strategica. Siamo coerenti con quello che abbiamo detto. L'abbiamo detto un anno fa con il nostro piano strategico, lo stiamo facendo e questo è solo il primo passo verso la realizzazione di un'opera che non a caso è stata ritenuta così strategica per il sistema da essere cofinanziata con i fondi del PNRR. Campione di resilienza è la storia di un piccolo atleta che ha vinto un importante torneo di arti marziali. Si chiama Francesco Nicola Cucumazzo ed è un piccolo grande esempio di resilienza sportiva per la Puglia. Francesco ha otto anni ed è un campioncino di taekwondo. Nonostante la sua particolarità fisica lo faccia partire, almeno sulla carta, in svantaggio rispetto agli avversari. Il piccolo atleta, infatti, ha un braccio più corto rispetto all'altro e sullo stesso braccio non ha il gomito. Ciò nonostante, Francesco è riuscito a battere avversari e pregiudizi al torneo Kimme Liu Sud Italia, che si è svolto nei giorni scorsi alla Palaflorio di Bari e che ha visto la partecipazione di circa 1200 atleti provenienti dalle regioni del Sud Italia. Francesco ha vinto il titolo nella sua categoria a meno 33 kg cinture blu, conquistando una meritata e importante affermazione. Da papà sono orgoglioso, mio figlio non molla mai, le parole di Antonio Cucumazzo, che fa parte anche dell'associazione sportiva Becdo San della maestro Luigi Clemente. L'intento è quello di promuovere lo sport per tutti, affinché chi ha queste particolarità non abbia timore di affrontare l'attività agonistica. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata.